eccoci qua ciao in questo esercizio andiamo a praticare è un tema importante imperativo più pronomi qui attenzione perché abbiamo sia i pronomi diretti sia pronomi indiretti il consiglio che sempre dopo prima di fare gli esercizi è andare a vedere un video imparare bene l'imperativo più imperativo più pronomi e poi possiamo fare questo esercizio nel mio canale ho messo in simone fiorini e potete possiamo vedere questo imperativo con pronomi diretti indiretti e poi fare l'esercizio questo tipo gioco qui abbiamo la partenza e qui dobbiamo completare devi dire la verità a me questo in eretto a me sempre è il pronome quindi devi dire tu devi quindi in questo caso è il verbo dire con tu e poi a me allora la risposta corretta possiamo come sempre stoppare completarlo o farlo in viva voce farlo nel momento in tempo reale come si dice allora proviamo insieme devi dire la verità a me la risposta corretta è dimmi quindi dobbiamo mettere una doppia m dovete qui e voi dovete studiare la lezione studiate la pronome diretto la lezione non dobbiamo aiutare carlo non aiutiamo lo debiti devi dare un bacio a maria dalle in questo caso ricordiamoci a maria il pronome indiretto quando c'è una davanti al nome sempre indiretto dobbiamo fare la spesa domani facciamo la dovete telefonare alla professoressa telefonate le ricordiamoci quando c'è a più il nome sempre indiretto non devi andare al bar non andar ci dobbiamo mangiare verdure mangiamo le in questo caso verdure le pronome diretto devi fare il dolce fallo dovete restituire il libro a claudio restituite gli pronome indiretto per a claudio devi stare a sentire me stammi in questo caso la frase completa è stammi a sentire dobbiamo studiare i verbi studiamo li devi dire la verità giulia dille ricordiamoci a giulia il pronome sempre indiretto quando c'è a davanti a un nome non dovete dire il segreto non dite lo devi scrivere a me scrivi mi dovete comprare i fiori comprate li dobbiamo andare in segreteria subito andiamoci questo ci ricordiamo sostituisce un luogo casa scuola a roma quando un luogo sempre ci non devi chiudere la finestra non chiuder la dovete ricordarvi lì dovete ricordarvi le chiavi ricordate ve le devi fare una vacanza falla non dobbiamo prendere caffè non prendiamo lo devi parlare al signor rossi parla gli non dobbiamo dimenticare luca non dimentichiamo lo devi fare gli auguri a sandro fa gli bene è un po complicato però sicuramente con con la pratica riusciamo a capire meglio il i pronomi l'imperativo insieme pronomi ricordiamoci sempre poi il segreto quello più semplice quando abbiamo un nome luca marco stefano il pronome diretto quando abbiamo a più un nome a sandro in questo caso ci indica questa che il pronome indiretto va bene ciao alla prossima